Benvenuti, ben ritrovati. Res pubblica di oggi con lo sottotitolo Sicilia chiama Europa prova più che a chiamarla proprio a gridare aiuto nei confronti di questa Europa che dovrebbe tutelarci un po' di più in questo periodo. Ci sta provando in qualche maniera, però mi sa che abbiamo bisogno di qualche marcia in più un po' tutti. Sono in questa prima parte di trasmissione con il presidente di Confindustria Trapani, nonché vicepresidente di Confindustria regionale, dottore Gregori, buongiorno. Grazie ancora una volta per essere qua con noi. Grazie a te per avermi invitato. Come ti trovo? Ti trovo bene? Nonostante tutto bene, dai. Hai avuto modo di riflettere in questo periodo di fine anno? Assolutamente sì. Con il Covid in qualche modo tutti abbiamo dovuto rallentare. Parlo per me e per altri molti colleghi imprenditori. È stato un momento per poter riflettere meglio, per soprattutto ragionare su come dovremmo affrontare il prossimo futuro. Alcuni hanno approfittato per riorganizzare meglio l'azienda, per organizzare meglio i processi produttivi rendendoli più efficienti, il che significa anche economizzare in alcuni casi. Altri hanno approfittato anche per studiare le mille norme che nel frattempo sono uscite in questo periodo di aiuti anche al mondo delle imprese. Abbiamo dovuto capire meglio come tutelare i nostri operai, operatori, alla luce del Covid. Insomma, è stato un momento in cui si è dovuto rallentare per forza e che ha potuto, ha studiato e ha riflettuto su tante cose. Partirei proprio da, estrapolando uno dei tuoi ragionamenti, cioè tutelare gli operai, gli impiegati, i lavoratori. Come è stato fatto? Le aziende serie e responsabili, e viva Dio ce le sono tante anche nel nostro territorio, sin da subito si sono attivati con le procedure previste dai vari DPCM. Il difficile è stato reperire, soprattutto nella fase iniziale, i DPI, soprattutto mascherine e quant'altro. Io ricordo, noi avevamo due persone in azienda che si occupavano solo di questo. Al netto del fatto che non abbiamo guardato... Il classico Covid manager che avete dovuto implementare, credo. Al netto del fatto che non abbiamo guardato alle cifre. Ci sono aziende che hanno speso centinaia di migliaia di euro, anche perché ricordo che una mascherina di queste chirurgiche, che oggi valgono 30-40 centesimi, a volte anche meno se comprati in grande stock, in quel periodo venivano acquistate a 2 euro. Le famose FFP2 non voglio neanche ricordare quante euro costavano ciascuna. C'è stato un periodo in cui, grande domanda, l'offerta è limitata e quindi il prezzo ha avuto dei numeri esagerati. Adesso le cose pian piano si sono un po' più meglio posizionate e quindi è più facile reperire tutto quello. Quindi non ci sono più alibi. Ritengo che la sicurezza per noi, per i nostri dipendenti, anche per chi ha clienti e quindi ha una clientela pubblica che magari si rifornisce o piuttosto utilizza i propri servizi. Tu sei non solo Confindustria Provinciale, ma anche Confindustria Regionale, poi sei in Confindustria Nazionale componente della Commissione Credito e Imposta, se non ricordo male, del territorio. Quindi hai un occhio che si espande un po' su tutto il territorio nazionale. Al di là della questione di P, quindi mascherine, dispositivi di sicurezza individuale soprattutto, chi ci ha speculato in questo periodo pandemico? Io più che non parlerei di speculazione. Sicuramente è stato un momento in cui, date le ristrettezze, c'è chi aveva prodotti e servizi di nicchia, compreso anche la sicurezza sui luoghi di lavoro, gli aspetti che riguardavano i DPCM del Covid, come adeguare le aziende, ma anche gli enti locali, la pubblica amministrazione, che chiaramente ha colto questa opportunità. Io non parlerei di speculazione to cure, magari c'è stata nel periodo in cui parlavamo della vendita di P, però c'è stata gente che ha fatto fortuna in questo particolare periodo. In questo caso si sono rimodulati gli imprenditori, hanno colto l'occasione per, intelligentemente, come dovrò so fare. O in alcuni casi si sono reinventati, mi piace chiamarli in questo modo, perché alcuni hanno, adesso ci sono casi nazionali, senza fare pubblicità a nessuno, la stessa Fiat e FCA ha iniziato a produrre mascherine, le mascherine che utilizzano i nostri figli a scuola, dietro nella busta di plastica c'è scritto FCA, quindi parliamo, ma parliamo anche di aziende di moda. Siamo in grado di poter ipotizzare una sorta di ripartenza dell'economia, dell'impresa italiana, o ancora siamo nell'incertezza? Ma, Nicolo, tu accennavi al fatto che partecipo, adesso non fisicamente, ma ai lavori in Confindustria Nazionale. Il sentire comune è che c'è un'Italia in questo momento, nonostante tutto, col freno a mano tirato. Ogni azienda, ovviamente, continua a gestire le proprie attività correnti, ma quello che è pericoloso e grave è che in termini di investimenti è tutto fermo. Ognuno sta cercando di capire quello che succederà, perché investimenti significa qualcosa che ti proietta sul futuro, significa ingenti risorse da destinare alle aziende, in questo caso, e con questi chiari l'una, con un'incertezza assoluta sul futuro di ognuno di noi, e quindi anche di chi fa l'imprenditore di aziende e lavoratori, questo è un momento in cui è tutto fermo. Si sta creando in qualche modo un circolo vizioso, perché attendiamo di capire cosa succede, quindi in questo momento non investiamo e aspettiamo e continuiamo ad aspettare. Ma la vera riflessione che credo debba preoccupare chiunque è che da sempre le aziende del Nord Italia sono più strutturate, hanno fatto più investimenti, hanno cicli produttivi a volte più efficienti, sono molto più grandi di noi, da noi il settore industriale, se parliamo della provincia di Trapa, rappresenta in termini di numero di aziende poca cosa, si è noi pochi punti percentuali rispetto alle aziende scritte in camera di commercio. Ma al Nord è finito questo periodo di crisi congiunturale, dettato dalla pandemia, lo stesso è accaduto circa dieci anni e oltre quando c'è stata la crisi dei muti subprime, Lehman Brothers e via discorrendo, finita la crisi congiunturale, loro sostanzialmente riaccendono, rigirono la manovella sul on e ripartono. Noi invece, sostanzialmente, sud Italia, quindi parliamo, se contestualizziamo la provincia di Trapa, la nostra non è una crisi congiunturale, ma è strutturale, endemica, dicevano, atavica, direi endemica, e di conseguenza cosa succede? Che quando finirà la, diciamo, questo periodo buio e tristissimo, non sarà semplice rigirare l'interruttore da on a off e ripartire come se nulla fosse. probabilmente ci ritroveremo tutta una serie di zavorre, di pesi e di difficoltà maggiori rispetto a quando ci siamo fermati. Per esempio? Per esempio, Nicola, se parliamo di turismo, noi eravamo partiti bene, poi nel frattempo ci sono state tutta una serie di problematiche, compreso l'annosa questione dell'aeroporto di Trapari, si stava facendo un grande lavoro sull'aeroporto, nel frattempo succede quello che succede, dobbiamo attendere tutte le vaccinazioni, si parla di un passaporto in qualche modo con la vaccinazione, quindi non sappiamo cosa potrà accadere. Nel frattempo l'aeroporto di Trapani continua purtroppo a macinare perdite a causa di questa chiusura, perché è vero che sono state giudicate le famose gare sulla continuità territoriale e quelle altre sui fondi regionali, 9 milioni, 800 mila euro, quello che è, ma è anche vero che in questo momento non stanno producendo effetti, perché nessuno prende gli aerei, nessuno si sposta, neanche per ragioni di lavoro, figuriamoci per ragioni diciamo di diletto. di diletto. Tutto questo non fa altro che far preoccupare, soprattutto per chi è investito in questo settore, e per capire quello che succederà nei prossimi mesi, perché adesso noi dobbiamo essere verosimili, concreti, e soprattutto, ecco, siccome ognuno di noi ha un ruolo, deve essere anche corretto in quello che dice. Non dobbiamo assolutamente illudere nessuno, non crediamo che a giugno finirà tutto e di conseguenza avremo nuovamente voli pieni piuttosto che macchine di turisti che si avvicinano in provincia di Trapa che per trascorre le loro vacanze. Questa diffidenza che è anche frutto della preoccupazione diciamo per la salute di ognuno di noi probabilmente si potrerà per tutto il periodo. Lo stesso periodo del estivo del 2020 abbiamo avuto comunque vado un luglio-agosto che ha registrato nel nostro territorio trapanese una buona presenza anche in linea in alcuni casi anche forse maggiore rispetto agli altri anni ma è stato un turismo interno un turismo siciliano e comunque vada il saldo perché di questo dobbiamo parlare è meno 50-60% perché in periodo di aprile maggio giugno settembre ottobre insomma diciamo che tra l'altro il governo italiano per metà di settembre ha previsto la riapertura delle scuole quindi non c'è stata quella scia che poteva consentire anche a fine settembre di avere dei turisti ma la gente doveva rientrare a casa per organizzare il rientro dei figli a scuola e quindi tutto questo ha portato un dato assolutamente negativo verosimilmente e anche lì per essere veramente chiari e concreti questo si potrà ripetere anche nella prossima stagione cosa si traduce in questo in aziende che hanno fatto investimenti e che oggi stanno andando in difficoltà di adesso Ryanair fino al 31 di gennaio ha annunciato che ha ridotto drasticamente voli ci sono compagni aerei e vettorieri di grande portata che sono andati in difficoltà le stesse navi da crociera cioè qui noi abbiamo una situazione di una assoluta gravità e che probabilmente non è colta a pieno da chi oggi è chiamato a prendere decisioni per il futuro del paese mi riferisco ai governi nazionali e regionali diciamo obiettivamente assolutamente sì credi che sia dovuta solo al fatto che questa pandemia ci sia arrivata così tra capo e collo è un problema di svecchiamento proprio delle logiche burocratiche io ho come la sensazione che anche a seguito della crisi pandemica soprattutto le imprese quelle solide si sono appunto rimesse in discussione cambiando anche strategie una cosa che invece continua ad essere per come la prima purtroppo per il mio punto di vista limitato e non c'è dubbio di chi ci segue è la burocrazia ferma era diciamo così vecchia era vecchia è rimasta malgrado si sia provato a dare una spinta alle questioni questo non funziona proprio e forse continua ad essere la più pesante per l'alpietro di questa Italia Nicola il problema della burocrazia l'abbiamo sempre avuto e anno dopo anno continua maggiormente ad incancrenirsi e quindi diventare il vero vincolo per lo sviluppo del nostro territorio se a questo ci mettiamo anche la crisi pandemica lo smart working fisicamente gente che magari prima era in un ufficio a fare il burocratio e comunque vada le cose in qualche modo non andavano avanti ma i progetti erano fermi se oggi mettiamo un'assenza fisica dagli uffici ma direttamente da casa il dato è tratto la situazione diventa assolutamente peggiore però proviamo a guardare la medaglia dall'altro lato quindi il rovescio cioè lo smart working se da un lato purtroppo è inutile negare ci sono persone serie che continuano a lavorare da casa e ci sono invece quelli che ne approfittano e che lavorano molto di meno o fanno finta di lavorare grazie allo smart working però si dice che questo smart working possa contribuire a creare una nuova dimensione del lavoro specialmente al sud pare insomma che le statistiche dicano che dal nord o anche dal sud d'Europa guardino alle zone soleggiate quindi il nostro bellissimo mezzogiorno d'Italia per potersi trasferire e lavorare da casa la tua è una domanda come dire una considerazione più che domanda assolutamente come dire intelligente però noi dobbiamo come dire approfondire meglio la questione lo smart working è un'opportunità è stata colta da chiunque in tutto il mondo si parla di south working di gente che anziché vivere e lavorare a Milano se magari è trapanese ritorna nella propria sede e continua a lavorare però tutti dimentichiamo un aspetto che anche sul digitale c'è una infrastrutturazione che manca a noi non mancano soltanto le ferrovie le strade efficienti chi più ne ha più ne metta ci manca anche una la digitalizzazione delle infrastrutture digitali che mancano questo si traduce tanto per essere sempre concreti io purtroppo faccio l'impeditore e sono molto pragmatico oggi è iniziata la DAD quindi la didattica a distanza dei ragazzi io sfido chiunque oggi a collegarsi ad un computer e valutare se la connessione di oggi la velocità di connessione di oggi è quella uguale a quella di due giorni fa tre giorni fa assolutamente c'è una caduta in termini dico perché? guarda mi trovi proprio protagonista perché stamattina ho assistito non solo per dovere di papà ma anche per mia deformazione professionale volevo capire come funzionasse il primo giorno di didattica a distanza nell'elementare dalle nostre parti una figlia che va appunto alla prima elementare al di là della questione legata alla connettività alla velocità c'è un problema ancora di diffusione proprio dei sistemi assolutamente ma questo proprio nella pubblica amministrazione sentivo un papà che diceva mia figlia signora maestra non può partecipare perché noi abbiamo due computer e servono a me per lavorare certo ma oltre a questo caro Nicola aggiungerei anche se parliamo di pubblica amministrazione ritorniamo a bomba sull'argomento molti funzionari pubblici anche molto bravi alcuni hanno sanno utilizzare il computer nella mia ipotesi ma in altri casi sicuramente non hanno questa predisposizione al digitale noi dobbiamo domani iniziare a ragionare di una pubblica amministrazione che è efficiente nella misura in cui utilizza strumenti veloci quindi riduce il tempo di risposta il tempo nell'elaborazione dei processi all'interno della pubblica amministrazione ma lo fa solo se è preparata quindi diciamo che stiamo sperimentando sulla pelle degli italiani lo smart working è tempo di iniziare a pensare alla smart burocrasi assolutamente sì e se prima non si infrastruttura si fa un'attività attenta di formazione nei confronti innanzitutto della pubblica amministrazione e poi mi piace dire anche le associazioni categorie dovranno farlo con i propri associati ma nel nostro caso è molto più più semplice c'è un interesse dell'imperitore nel doverlo fare allora probabilmente ci sarà un miglioramento delle cose altrimenti sarà l'ennesimo collo di bottiglia perché cosa ci aspettiamo noi a breve che ci diranno facciamo tutte le procedure burocratiche online quando invece probabilmente ci sarà qualcuno che dall'altra parte dovrà valutare i progetti le istrutture e quant'altro che non è né capace di farlo né quantomeno c'è l'hardware la parte strutturale per poterlo fare e allora lì sarà ovviamente la debacle come dicono Oxford sa giuca e scecca assolutamente sì senti abbiamo parlato di Southworking c'è questa nuova possibilità implementata ampliata come fascia d'età quella di resto al sud io credo mi smentirai mi capisci più di me insomma che sia veramente una opportunità che i giovani e non più così giovani perché è stata estesa fino a 55 credo 56 anni questa possibilità possano e debbano forse approfittarne davvero per creare impresa assolutamente sì assolutamente sì diciamo che la cultura di impresa da noi non ha mai attecchito soprattutto ecco il sud Italia e la nostra provincia anche noi abbiamo il 70% della forza lavoro che è impiegata nella pubblica amministrazione questo lo dice lunga anche i stessi giovani non hanno mai deciso di scendere in campo per varie ragioni culturali retaggi familiari ma chi te lo fa fare vedi di fare un concorso atti sistemi difficoltà di accesso al credito eccessiva burocrazia perché no aspetti legati alla criminalità organizzata io ritengo che con il resto al sud e non solo buona parte di queste chiamiamole scusanti possono essere superate perché oggi con il resto al sud c'è un contributo in conto esercizio in conto capitale insomma dei soldi che ti dà lo stato per avviare la tua attività e un'altra parte con un finanziamento agevolato il bello di tutto questo è che con zero garanzie una volta i ragazzi erano costretti ad andare in banca se volevano un finanziamento pagarlo caro e per giunta perché era un'attività start up molto rischiosa e per di più erano richieste le fiduzioni compreso della settima generazione oggi con il resto al sud la garanzia tra la dallo stato e quindi diciamo credo che ci siano tutte le condizioni per chi ha voglia di scendere in campo e mettersi in gioco di poterlo fare riusciamo in pochi minuti a spiegare cosa deve fare un giovane o uno che ha un'idea soprattutto le donne questo resto al sud è soprattutto buonissima per le donne non sottovalutate questa possibilità cosa bisogna fare per poter accedere sperare insomma di essere finanziati intanto deve presentare un progetto a Invitalia adesso tra l'altro nei vari territori compreso nel Trapanese si vanno attivando tutta una serie di sportelli di Invitalia per il resto al sud devono presentare un progetto con aspetti anche numerici economico-finanziali raccontare la propria idea di quello che vuole fare cosa intende vendere a che prezzo quali costi dovrà sostenere per poterlo fare e la cosa positiva di questo di questo strumento io immagino ci sia però qualcuno che possa accompagnare non tutti siamo esperti di economia giusto non tutti sono i propri di fare dei business planning ovviamente in alcuni casi sono gli stessi consulenti che danno una mano anche se voglio anticipare dal tuo studio una cosa noi stiamo portando avanti con i ragazzi di Trapani per il futuro con la fondazione comunità Confindustria Confcooperative e anche qualche altro partner il comune di Trapani in particolar modo un progetto che speriamo prima o a cavallo dell'estate far partire di creare un hub qui a Trapani dove parlare di South Working di Coworking parlare di Sportello Presta al Sud e creare lì dentro una sorta di fucina una palestra per tutti quei ragazzi che vogliono in qualche modo cimentarsi o avventurarsi nel difficile ma al contempo mi piace dirlo perché è insomma quello che mi spigge ogni mattina ad alzarmi mondo dell'imprenditoria se ci riusciamo sarà una grande cosa daremo anche l'assistenza gratuita per chi ha voglia di farlo saranno organizzati dei corsi con dei consulenti per capire come si gestisce un'azienda quei principi essenziali che devono essere alla base per avviare un'attività o che già lo fanno insomma l'impresa quelli che vogliono cimentarsi nel mondo dell'impresa non bastano solo le idee no no assolutamente non bastano solo le idee ma in questo momento devo dire noi dobbiamo iniziare a puntare sulle competenze per farlo ci vogliono formazione competenze significa anche meritocrazia lì in quel caso invece avvieremmo un processo virtuoso di chi è bravo di chi è studiato di chi riesce a emergere perché dice delle cose giuste e corrette soprattutto perché rispondono alla realtà alle leggi viene in qualche modo premiato e da lì inizia a diventare imprenditore inizia a diventare politico inizia a diventare funzionario inizia a diventare classe dirigente di questo territorio il tutologo non va assolutamente più bene si apre una pagina Facebook e si diverta su Facebook assolutamente sì senti parliamo un po' di confusione in politica abbiamo accennato prima io credo che al livello nazionale ci sia un po' di marasma certamente non si capisce bene quale direzione prendere specialmente parlando di recovery fund questo per chi fa imprese è un problema appunto di incertezza ulteriore che cosa mi aspetto dal futuro cosa dove mi vuole portare alla classe politica italiana Ricola sì assolutamente sì si parla in questi ultimi mesi settimane giorni anche di recovery plan però c'è una grande anche lì confusione perché oggi i media parlano di recovery fund nella misura in cui c'è una crisi di governo nazionale che è diventato come dire anche quello un momento di scontro politico e non un motivo di confronto per fare ripartire l'Italia quindi qui quando si parla di next generation tutti i paesi dell'Unione Europea il termine utilizzato sul recovery fund è next generation la nuova generazione la nuova generazione non sono i sessantenni i settantenni sono i ragazzi dei nostri territori che via via vanno abbandonando anche lì io voglio aprire una voglio accendere per poco perché ho intenzione di portarti la settimana prossima a De Politico perché parleremo di questo argomento cioè di chi rimane al sud rimane al sud e noi abbiamo Ricola intanto due terzi della popolazione universitaria studentesca della provincia di Trapani che non si iscrive all'università di Trapani non si iscrive a quello di Palermo di Catania di Messina prende l'aereo e va via perché il treno non lo può prendere perché ci impiegherebbe settimane e va via questa è gente che non ritorna noi ci sono i dati dell'ISTAT dell'ultimo trimestre che sono spaventosi la Sicilia prima contava più di 5 milioni di abitanti ora siamo 4 milioni 870 e rotti noi abbiamo uno spopolamento che continua a insistere nel nostro territorio nella nostra Sicilia abbiamo lo Svimez che ha fatto uno studio dicendo continuando di questo passo noi tra 50 anni avremo 3 milioni e 800 mila abitanti voglio aggiungere di più anche la stessa ISAT ci dice che noi su quasi 5 milioni a questo punto sono meno di abitanti abbiamo soltanto 400 mila laureati significa l'8% caro Nicola quando la media nazionale scusami la media europea è del 30% noi siamo all'ultimo posto in Italia e al penultimo posto in Europa prima di noi dopo di noi c'è una regione della Romania prima di noi molto prima c'è la Corea tutte queste cose vedo che anche tu sei giustamente purtroppo mi fa male leggere queste cose ma ti fa un'ora perché significa che insomma sei uno che approfondisce perché altrimenti torniamo alla famosa storia della competenza che viene in alcuni casi a mancare tutte queste cose stanno creando un danno irrenarrabile un danno che i cui effetti si avranno nei prossimi anni sicuramente ma che già da oggi inizia a minare quello che sono lo sviluppo del nostro territorio perché se i giovani vanno via chi è che deve iniziare a pianificare il futuro chi ha 60 70 anni chi è alle porte della pensione allora in qualche modo e torniamo alla famosa next generation gli altri paesi stanno investendo sui giovani noi abbiamo avuto una prima versione del ricordo poveri found come lo chiamano qui in Italia che stanziava 3 miliardi di euro per i giovani e ora dopo tante liti fra governo parti del governo e quant'altro forse siamo arrivati a 9 miliardi questo lo dice lungo su quella che è l'attenzione del governo nazionale non solo sui giovani e in particolar modo sullo sviluppo sul mondo produttivo dell'Italia senti spogliandoci di appartenenza se mai ci sono politiche ideologiche Renzi in questa crisi di governo uno dei punti che ha messo sul tavolo della trattativa è quello legato alla costruzione del ponte di Messina tu da imprenditore da presidente di Confidusia vicepresidente di Confidusia regionale componente del tavolo nazionale sta cosa come la vedi? ma allora io non infatti nulla abbia messo sul tavolo è davvero una priorità una cosa che allora io devo essere sincero per me il ponte sullo settore Messina sarebbe una grandissima opportunità per la Sicilia da mille punti di vista collegamento ma diventerebbe anche quasi un'attrazione ma velocizzerebbe i trasporti chi più ne ha più ne metta è anche vero che da Messina in su perché da Messina a venire a Trapani no e lì voglio arrivare è anche vero che però al netto delle cose che ho appena detto e che sottoscrivo mi sento di dire che ci sarebbero altre priorità dal punto di vista delle infrastrutture quindi io dico facciamo tutto quello che oggi serve per collegare meglio la Sicilia per far sì che le nostre merci si possano spostare più agevolmente a costi inferiori che i turisti che arrivano da noi si possano muovere con più velocità e poter visitare le tante bellezze del nostro territorio e dopo di che dopo che abbiamo fatto tutto questo mettiamo mano al ponte è anche vero che però del ponte se ne parla ormai da decenni è diventata spesso una battaglia politica uno scontro ideologico assolutamente tra chi è a favore e chi è contro nella realtà non si è mai realizzato senti tu dici consentiamo a chi non conoscesse Sicilia di venire dalla nostra parte e godere delle bellezze della nostra terra a proposito di bellezza abbiamo quattro possibili siti in Sicilia dove poter due in provincia di Tramani dove poter creare un deposito di scorie radioattive anche da parte di confine l'industria è partita una battaglia a peli non preventiva perché in questo momento diciamocela chiaramente non è tanto semplice che uno dei quattro siti venga individuato e ci si possa realizzare un deposito anzi diciamo i parametri secondo quello colletto appunto dal Sogin sono quelli siciliani tra i meno indicati però una possibilità c'è noi in maniera preventiva abbiamo detto subito no dalla nostra parte no not in my backyard allora anche lì sull'argomento il 5 di gennaio alla in qualche modo ripresa delle attività dopo le festività natalizie abbiamo ricevuto questo regalo quindi la possibilità di essere inseriti in questo piano di Sogin ci siamo tutti allarmati e la cosa che mi ha fatto enorme piacere che non più tardi di venerdì c'è stata una riunione in qualche modo coordinata dal comune di Trapani dove erano presenti enti locali comuni quindi del nostro territorio c'erano associazioni categoria c'erano associazioni sindacali c'erano associazioni ambientaliste gli ordini professionali eravamo tutti presenti a difendere il territorio l'attività anche questa meritoria che si sta mettendo in campo è quella che al netto del fatto di lamentarsi non lo vogliamo lo stiamo argomentando quindi ritengo che entro i famosi 60 giorni che ci ha dato si sta creando un comitato tecnico saranno presentate le contradduzioni per dimostrare in maniera compiuta che i criteri di localizzazione previsti da Sogin non sono assolutamente aderenti alla nostra realtà ne cito qualcuno c'è un rischio sismico importante c'è un rischio idrogeologico importante c'è un aspetto che riguarda anche le culture di qualità come il vino la nostra è una ma anche gli uliveti la nostra provincia di Trapani è quella più vitata in Europa potrei aggiungere anche il fatto che abbiamo il tempio di Segesta a Segesta e quindi anche questo è uno dei motivi ostativi previsti da Sogin io credo che sia stata fatta un lavoro forse un minimo superficiale anche in considerazione del fatto che eravamo agli ultimi posti fra i siti potenzialmente interessati dalla creazione di questo deposito di scorie nucleari però nonostante tutto non possiamo assolutamente dormire sugli errori dobbiamo accendere i fettori così come stiamo facendo e in maniera però professionale con grandi competenze dire qui non lo vogliamo non perché è partito preso ma perché aggiungo di più sull'argomento consentimi perché è di grande di grande rilevanza è che tutti questi aspetti chiamiamoli che dovevano essere e che sono ostativi e che spesso creano diciamo delle difficoltà all'imprenditore di creare un nuovo sito produttivo piuttosto che allargarlo perché c'è la zona SIC ZPS e quant'altro e in alcuni casi noi imprenditori ci lamentiamo la situazione di categoria che sono un freno allo sviluppo del nostro territorio d'amblè per creare un semplice tra virgolette consentimi la provocazione sito di scuola nucleare tutto questo viene messo da parte e quindi invece viene inserito in un elenco vabbè è un'area che appetisce questo qua di Gallidello che in un modo o nell'altro ritona sempre l'unico l'appetisce spesso viene considerata la Sicilia quando si tratta di aspetti negativi in questo caso diventerebbe veramente la pattumiera dei rifiuti nucleari io credo che l'attenzione che debba essere rivolta al sud e alla Sicilia debba essere più concreta più seria perché lo dicono ormai lo dice chiunque se l'Italia parte riparte tutta e quindi va coinvolto va sordato in qualche modo anche il sud questo lo ha fatto l'Inghilterra allora con l'Irlanda con la Scozia ma anche all'interno della stessa Gran Bretagna tra il nord e il sud è vero allora noi dovremmo probabilmente guardare a quello che hanno fatto altri paesi ma lo stesso senza andare lontano con la caduta del muro di Berlino Germania all'est e Germania all'ovest c'era una più evoluta l'altra meno oggi la Germania è una grande nazione perché ha guardato e investito ad un pezzo della propria nazione che non poteva rimanere emarginata quando le cose fioriscono infioriscono tutte non è come si pensa che il nord possa continuare a marciare andare avanti come un treno in corso e il sud rimanere posteggiato in un bienero morto assolutamente dobbiamo approfondire queste tematiche lo faremo magari con altre trasmissioni intanto ti saluto Presidente do spazio al Presidente di Federalberghi che adesso ci raggiunge Antonio Marino parliamo un po' di turismo credo anche lì qualcosa da approfondire da sottolineare ci sarà intanto grazie Greco Di Buongiorno Presidente Confindustria Trapani Vice Presidente di Confindustria regionale componente del Comitato Nazionale di Confindustria per quanto riguarda il settore del credito e delle imposte buon lavoro e a presto grazie a voi breve pausa adesso arriva Antonio Marino Presidente di Federalberghi Provinciala